Anticipazioni Beautiful. Trama puntate. Martedì 10 agosto 2021. Brooke non vede l'ora di ricucire con Ridge e lo confida a Donna, che le augura il meglio. Quinn scopre che Sean è ritornata a Los Angeles e la esorta a recarsi a Villa Forester per incrociare Ridge. All'arrivo di Eric la donna è costretta a riagganciare. Lei poi lo aggiorna su Shauna e sul matrimonio in frantumi di Brooke e Ridge. Quinn crede che la Fulton sia la donna migliore per l'hostilista, visto che la Logan non fa altro che deluderlo e tradirlo. Ridge rientra proprio in quel preciso istante e il patriarca prende le difese di Brooke. Ridge sorridendo ne approfitta per informarli che lui e Brooke sono ritornati insieme. Poi però il Forester resta sorpreso quando Shauna varca la soglia di casa. Spiega che per lei sta diventando difficile stare lontana da Flo e da suo marito. Ridge le chiede se è sposata e lei scopre così che non ricorda nulla della indimenticabile notte passata con lei a Las Vegas. Pertanto gli racconta della cerimonia di matrimonio e di come l'abbia poi invitata a fare le valigie e a tornare più presto a Los Angeles per stare per sempre insieme. Grazie a tutti!